Io devo fare una cosa, scusa, su 3 a 2, loro non passava a metà campo, abbiamo continuato a giocare con la difesa a 4. Io non faccio l'allenato, io personalmente che l'atteggiamento non mi è piaciuto, come Presidente posso parlare solo dell'atteggiamento, questo è il tattico che non mi ci metto di mezzo, non è il mio compito e non sarà mai. Io personalmente che l'atteggiamento non mi è piaciuto e come Presidente prenderò il prospettimento, mando tutta la squadra e vi dirlo perché questa non sta alla prestazione della San Maitesco. Sì, sono Sandro, il Presidente Spina con me, il tempo era da ritirare la squadra dal campionato. Presidente, giornata nera per la Samb, ha annunciato un ritiro della squadra mercoledì, cosa è andato e cosa non è andato? Oggi non sono entrati in campo con la voglia e con la consapevolezza di avere addosso la maglia della San Maitesco, quindi il primo tempo sono stati acquando inguaggiabili e sono ingiustificabili. Da mercoledì cominceranno un ritiro a oltranza fino a quando non affilano qualche filotto. Il Forlì nel primo tempo, il Forlì che giocava con sei giocatori, ha fatto la differenza con Gnand? Il Forlì ha meritato di vincere, il Forlì ci ha messo la voglia, con Andrea Venda è quello che ci abbiamo messo noi e questo a me non sta bene, è peggiormente che non è da San Maitesco. Non è peggiormente da San Maitesco, è necessario. Grazie a tutti, Presidente, la partita si poteva.